Ciao a tutti ragazzi sono Cielo Fizzis e questo è Ghiag mi prende tutto Siamo qui e beh questo vabbè In questo ci siamo qui con Ghiag e Jacopo sulle Bed Wars Ghiag dice una pizza Allora Questa oggi sta registrando anche Jacopo dal suo schermo Se riesco spero proprio di sì perché l'ultima volta è stato bellissimo Farò un montaggio spettacolare Comunque Vai impegniamoci quest'oggi Che succede? Che spavento Ok Proteggiamo il letto E rendiamolo potente Perfetto ecco qui Allora tu sei andato di là quindi io vado esattamente Dalla parte opposta No per un pelo mi ha fregato tutto quanto Ok butto qui questo qui Ah grazie mi da l'orlo Guarda qui Ok prendiamo l'armatura E basta Da questo punto vado di qua C'è qualche complicazione Ok ecco Che succede? Passaggio sul punto perché? Perché sì Bravissimo Era venuto qui Era venuto qui pensavo che volesse darmi della lana In realtà era di soltanto perché Sì come ha detto lui Ok comunque ci siamo quasi Sperando che non sia arrivata L'altra L'altro colore insomma Qui Ok sembra che non ci sia ancora nessuno Yeah ci siamo Sei diamanti Ok questa volta si è reso utile Bravissimo Tu quanti diamanti hai? Sei Io cinque Io ne vedo tre linee Hai mangiato l'under chest Anzi non sei Ma che hai fatto? La forge E allora lo rifaccio no? Otto C'è due? Sì Dai I grandi Dove è? Così facciamo silverfish per sempre Ecco I silverfish sono sempre l'arma dei fettini Vediamo quelli ferro To il ferro Ecco Tutto quanto te lo do Allora vediamo un pochino Là abbiamo i rossi Che stanno cercando di arrivare sulla nostra isola Quindi vado a fermarli Vuoi attaccarli? Allora aspetta che poso i diamanti E no Vai Addosso Aiuto Io picco questo Ma che caspita Spacco Distrutto Ah aiuto Aiuto Mi piace un cuore Aiuto Ma è mortale Riprende vita Vai 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 L'abbiamo ucciso Grande Grande silverfish E' il miglior compagno di squadra Scherzo scherzo Tranquillo Io ci ho buttato la TNT E se non era per me Non potevi scordare You can't let the ring team Non sono ancora stati eliminati tutti C'è ancora qualcuno Dei rossi E' la sua Sopra di te Sopra di te Lo vedo io E' vero E' papera Malefica papera C'è la squadra inferno Non c'è andare Anche io ce l'ho Ti raggiungo Papera malefica Yeah Hai visto che sono bravo Ok sono morto Ok stiamo attaccando i verdi Vai Ossidiana Pure Caspiterina Dove Caspita Ejig Dove sono i silverfish I miei fedeli amici Aiuto Aiuto Ok ci hanno disintegrato Te l'avevo detto Ejig non mi ha aiutato Dove Caspita è andato Era lì a prendere i diamanti Ma non c'ho parole Magia Dai Vai vai Ti seguo Aio Ma io non posso fare così Caspita Ti lancio i silverfish Mi son buggato Si vabbè mi son buggato Si vabbè mi son buggato Non ci posso credere Non ci posso credere Parole Aiuto Stai alla base tu Ok allora rimango qui Sì gli mettiamo Nero un gole Allora vediamo C'è le due di oro? Oppure gli lanciamo Di nove File Perfetto Vai stiamo Ho sbagliato tasto No no Vedi perché? Scusa ma io avevo L'inventario aperto Ho cliccato sulla file Bolle e la sparata Perché? Certo Io non sapevo sta cosa Come è possibile? Vabbè Vabbè Fa poco ne prendo un'altra tanto Bravo il ponte Bravo Spaccato il ponte Bravissimi Complimenti Perfetto Perfetto Hai visto Avevi la fireball? Un'altra Mamma mia che mira Sono fermo E sono fermo io Tu stai qui Di freddare una base Tanto era uno spot Ne arriva un altro Dietro di te Lì Io gli spacco il ponte Aspetta Mi sa che Ah L'ho fatto cadere Ha messo la TNT Sto stupido No non l'hai fatto cadere Per niente Le mie scale Beh le ridate Dobbiamo andare da lui Mi sa dobbiamo salire Non è cascato proprio Ma questo qua c'è la TNT Ma è stupido Perché tanto L'Handerson Non succede niente Sì L'Handerson si spacca Con la TNT No Ma che cazzo lo dici? Naturalmente no Ma è bellissimo Cadì È caduto? Questa sono le scale Cosa? Cosa? No 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 Dov'è? No 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 Dov'è? Ah eccolo qui No Ma che cazzo Dove? Ah L'Handerson è stupido Quello C'è una connessione No vieni qui Che succede di preciso Vieni qui Aiuto Sto arrangando tutto No vabbè è impossibile giocare Ti seguo No No aspetta Noi camperiamo con tutto al massimo È vero Ma quando arrivano perché Prima o poi Prima o poi Gli altri si spaccano tutte e due Sì è vero Fra cinque minuti credo Ok camperiamo Facciamo una mega corazza di Tutto quello di circolare Mettiamo tantissime rongole Non possono venire qua È vero Stanno arrivando però Io intelligentemente l'ho messo lì Ed è caduto lì sotto Vai tieni Eh eccoli là Vedo che si avvicinano Vai Emerald Plop Così non lo dobbiamo più andare A città per l'esmerald Iron Golem Ora o mai più Tieni che ti do il mio ferro È tutto messo Non posso Perché Eccolo Eccolo Questo è forte È forte È forte Ah Ma contro ti cuore Contro cuore Contro cuore Eh vabbè Larga Lascialo andare Lascialo andare Ne arriva un altro Da destra Io sto per morire Mangia Tieni Tieni Mangia Mangia Cosa Me l'adoro Ok Se arrivano la mangio Caspita adesso sono pure a sinistra Ecco Vabbè guarda Puff Puff Grande Vai Aiuto aiuto No la bustola no Perché mi ha messo la bustola Cosa dove Chi Perché Muori No muori No Sono morto Ok ho fatto cadere questo Ci ti è trasportato No Ma è morto comunque Dai Ce la farò da solo Dove hai messo le tue cose Le hai perso C'è morto Pensavo che le avessi qui Ok Proteggetemi Siete la mia unica speranza Ora se rischierei io Intanto Sì sì Ma non ci sono Che vuoi Arriva un tizio Arriva un altro tizio Muori Ah Grandi Un è morto Wow Mamma mia Grandi Tira gli smeraldi però vai Che ci faccio Eh ci fai la spada in diamante Con tre No Ecco qua Ti fai l'armatura in diamante con sei Ah è vero Eh va via Maledetto No è caduto il golem Caspita di fa cadere Ah È morto Oh Ok Ecco adesso sei morto anche tu Presto 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 Apri il negozio Perché si è morto Potevi fornare il golem No non potevo farlo Sì 920 Ah sì Costa 150 Ebbè ne avevi altri 25 Tata 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 Addosso Ah Vattene via Ok Stupidi Non seguitelo Ok Sì 29 diamanti Presto Posso migliorarlo ancora No Ancora uno me ne serve Eh Ok Vado a prendere Il pool c'è già Eh questo c'è Questo lo metto Vuoi prendere diamanti Ok vado a vedere un pochino se ce n'è Ah Mi sa che mi seguono Aiuto Ok Eh non puoi più andare a casa Eh però adesso sono da solo Non c'ho il silverfish e non c'ho nient'altro Però credo che Ah aiuto Perché ha laggato Anche a me la per così Ok Ok Sono salvo Ma che cavolo fai qui Vattene Muori Ma cos'è No vabbè Impossibile No Però è stata una partita Epica Caspiterina Quindi ragazzi Direi che per oggi è tutto Ci vediamo al prossimo video Delle bad wars E la prossima volta Non mi arrabbi Eh va bene Ciao al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.